Ciao a tutti! Oggi prepareremo i peperoni con la mollica. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono peperoni tagliati a fette piuttosto larghe, scalogno, pangrattato aromatizzato, pecorino, capperi, sale, pepe, origano e olio evo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno ed azioniamo il bimbi per 3 secondi a velocità 7. riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio ed insaporire per 4 minuti 120 gradi, velocità 3. riunire sul fondo del boccale con la spatola. unire i peperoni, il sale, il pepe ed azioniamo il bimbi per 18 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. aggiungere il pan grattato, i peperoni, i capperi e l'origano ed azioniamo il bimbi per 8 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. aggiungere il pecorino ed azioniamo il bimbi per 2 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. i peperoni sono cotti, lasciare il tiepidire prima di servire. peperoni con la mollica. grazie e alla prossima ricetta! grazie a tutti! grazie a tutti! grazie a tutti!